Ha definito il CPR una ferita per Torino. Cosa farà il Comune per ciò che concerne il CPR? All'interno della nostra... Noi siamo già andati a visitare il CPR con la sindaca, abbiamo trovato davvero uno spazio inaccettabile, dove i diritti fondamentali delle persone vengono sospesi. Io credo che davvero occorrerà cambiare questo modello a livello nazionale, non solo un CPR non deve essere presente a Torino, ma non deve essere presente in nessuna città d'Italia. Grazie. Grazie.